Questa è la più certa del coveggio, pronti amici! 600 metri di gara con davanti Country Format che ha preso del margine insieme a Gran Corredore rispetto al resto della compagnia con Silver Gauntlet che adesso deve ricuscire un po' il gap, l'intruso in quarta posizione all'esterno, in quinta all'interno Ercole, poi Painted Black con Capitana Sbudella e Red Roof con Roero a chiudere lo schieramento. Cavalli che a questo punto affrontano la curva, direi che Country Format ha preso decisamente l'iniziativa, ben richiesto e sollecitato dal suo interprete, Gran Corredore rimane immobile all'interno in seconda posizione, poi la corsa che entra nel vivo per gli altri, Silver Gauntlet che prova ad attaccare, ancora più all'esterno c'è l'intruso, poi Roero ben saldo nelle mani del suo interprete alla ricerca di spazio, dall'interno si propone anche Ercole Capitana Sbudella e ancora più all'interno Red Roof, corsa incertissima, Country Format è ancora in vantaggio, è messa sotto attacco da Silver Gauntlet e soprattutto da Ercole con ancora più all'esterno Capitana Sbudella, si propone anche Roero, è passato in vantaggio Ercole che a questo punto si deve difendere, da Silver Gauntlet e da Roero che scatta all'esterno, è in vantaggio Ercole attaccato all'esterno da Silver Gauntlet e Roero, ma vince Ercole nei confronti di Silver Gauntlet in seconda e in terza Roero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.